Terremoto in Emilia Romagna con efficiente a Reggio Emilia alle 19.55 di oggi, 7.55 di sera. La scossa si sarebbe verificata tra la magnitudo 3.9 e la 4.4. La scossa di terremoto è durata pochi secondi ed è stata avvertita molto bene anche a Bologna, a Parma, Modena e a Luzzara. Per fortuna al momento non si segnarono danni a persone oppure a casi a cose. Tanti tweet pubblicati nel social per eccellenza di piccoli pensieri di cittadini che vivono in provincia di Reggio Emilia che hanno sottolineato in maniera abbastanza autentica di aver percepito piuttosto bene la scossa di terremoto che c'è stata poco prima delle ore 20 di oggi, 9 febbraio 2022. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Se ci saranno eventuali aggiornamenti e ve li fornirò per tempo, vi ho informato di questa scossa di terremoto che si è verificata oggi perché secondo me hanno fatto un video. Ciao a tutti da vostro reato, narratore italiano.